. Benvenuto nel nostro canale, quindi arriva un nuovo giorno e abbiamo la possibilità di incontrarci di nuovo, ne siamo davvero felici. Vorremmo trascorrere un Natale molto sereno, caldo e gioioso con la famiglia, e i nostri cari. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, M-A-R-T-E-D-I con accento grave 15 dicembre 2020 Oroscopo Ariete di oggi segno fortunato. Chi bene inizia, chi bene inizia, è a metà dell'opera, sentenzia il proverbio, e se ha ragione, siete a posto per tutta la settimana. Il bel trigono di fuoco inviato dalla luna nuova in Sagittario a Marte nel vostro segno, è il carburante giusto per viaggiare nella vita con successo e piacere. Ideale anche per partenze concrete, come un viaggio d'affari o meeting ad alto livello, siete emozionati ma sentite che tutto andrà bene, le vostre idee faranno colpo. Invito da amici lontani ai quali a malincuore, dovete dire di no, finché le limitazioni saranno in vigore, e la prudenza invita a limitare i movimenti, preferite aspettare, sarete anche un Ariete coraggioso, ma, astrotarocco del giorno per Ariete 4 bastoni un chiarimento importante nella coppia si traduce in un'immediata intesa 2. Un nuovo modo di stare insieme, e la coppia che si rinnova. Momenti di dialogo per i single, che avranno modo di approfondire le conoscenze. Il gioco dell'amore va benissimo 2. Serata piacevole in compagnia di amici, e potrebbe esserci un piccolo regalo per voi. Vivrai momenti che ti sembrerà di avere già vissuto. Ottima la salute 2. Fai cose diverse dal solito. Una gita in un posto storico, ad esempio. Insomma ogni tanto distraiti. Oggi apprenderai il ritardo in una pratica che ti irriterà, e non poco 2. Accuserai un impiegato di essere stato la causa, ma ci hai messo anche del tuo. Pianeti burloni 2. Farete fatica a prendere sul serio alcune persone che vi proporranno progetti e vi faranno confidenze strane. Abbiate però un atteggiamento diplomatico? Fa i piccoli sacrifici per mantenere un'atmosfera tranquilla in famiglia. Venere non è in aspetto del tutto favorevole per i nati di lunedì e giovedì, e potrebbe creare qualche malinteso che si può superare facilmente, ma che in ogni caso potrebbe dare qualche noia. Fate in modo oggi di rilassarvi e concedervi qualche buon'ora di distrazione. Siete troppo presi da mille problemi e questo non giova al vostro umore, e alla vostra giornata. Troppi dubbi non fanno bene. Ne avete perfino sulla persona che amate. Oggi promettetevi di inziare a fare un po' di pulizia tra questi dubbi e cercare di vivere positivamente il presente? Marte e Saturno non giovano al vostro amore. Sembra quasi che, Marte in particolare, voglia sgambettarvi e farvi dispetti. Siate fermi nei propositi e attendete che tutto vada a posto da solo. Il trigono di fuoco regalato dal trio Luna-Sole e Mercurio, che ringaluzzisce Marte nel vostro segno, vi fa iniziare la giornata con entusiasmo e vitalità, che permarranno inalterati fino a tarda sera. La prospettiva di un viaggio di lavoro vi dà carica, facendoli sentire in una situazione di quasi normalità. Amore ed Eros. Coppie felici a tutte le età, e in tutte le situazioni, da quelle in lodaggio a quelle già collaudate, con o senza pupi da educare insieme. Contenti anche i single che annusano l'aria avvertendo il profumo del prossimo incontro. Un buon influsso astrale dei pianeti che corrispondono alla seduzione vi accompagna. Il Sole, come calore umano, in particolare continua a sorridervi dal segno amico del Sagittario, e vi dona uno slancio irresistibile verso la conquista. Perché è il gusto per l'avventura quello che più vi permea in questa giornata di metà dicembre. Sia che siate in una coppia stabile oppure avviate un legame occasionale, le vostre pulsioni vi portano a variare lo spettro dei vostri desideri, inducendovi a varcare spazi sentimentali alternativi. Tutto questo in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno in aprile. Lavoro e denaro. A giudicare dall'umore non sembra nemmeno lunedì. Nessuna ansia o tensione professionale all'orizzonte, la prendete alla leggera, perciò rendete il doppio. Noi e in arrivo solo in serata, qualcuno vi fa un appunto che vi mette a disagio. Il vostro impegno è da sempre apprezzato. Ora, Mercurio ritornato in angolo felicissimo, vi rende giustizia in special modo presso piani alti dove si svolge il vostro lavoro consueto. I capi infatti meditano, come premiarvi e farvi avanzare, in special modo se appartenete alla seconda decade. Benessere? Stanchezza a parte, siete in ottima forma. L'ambiente familiare e allegro, e in contatto con persone amiche è un vero toccasana anche per voi, al punto da farvi dimenticare l'emicrania o il torcicollo, malesseri tipici degli ariete durante l'inverno. Per lei? Sottile senso di colpa ogni volta che lasciate a casa i pupi alla babysitter e partite per lavoro o uscite con qualcuno. Tenete duro, avete diritto a una vita anche voi. Per lui? L'elemento sorpresa è il condimento della giornata, qualsiasi fuori programma è un piacere e un divertimento. Colore delle emozioni. Arancione. Barometro dell'umore. Soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti. 9, attività. 10, finanze. 9, benessere. 10. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo. Ciao.